Buonasera 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 Stracca non si dà upload per più facile Da chi? Ah no, quello straca mio Per fare non porti tutto in tempo Chi? Buonasera Ben bene il cino mash Che c'è il film che va a fare con il tuo tempo? Beh, in sera è un muscolo che fa il tempo a fare il tempo. Diciamo la prima volta... E' un po' il tuo tempo. E' un po' il tempo, era un po' il tempo. Io non ho mai esame la prima volta, ma è mai solo il tempo. E' un po' il tempo. che è un po' di tempo però mi ha fatto un po' di tempo ma guarda cosa ai 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 rosso no, non è un po' di tempo no, non è un po' di tempo 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 Grazie. 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 Grazie.